buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video oggi sono qui a raccontarvi di come secondo me è possibile smascherare un truffatore o perlomeno capire se stiamo per incappare o meno in una truffa avviso prima di quello che sto per dirvi questi sono solo semplici consigli scaturiti dalle mie esperienze passate notando comunque che tutte le persone che hanno provato a truffarmi sia quando acquistavo che quando vendevo utilizzavano perlomeno lo stesso modus operandi se dovessi spiegarvi come capire chi potrebbe essere un potenziale truffatore o meno dividerei l'argomento in due campi ben distinti ho notato che vi è una grande differenza di approccio tra il truffatore che vende e quello che acquista e in questa prima parte di video andremo ad analizzare assieme quali sono i principali campanelli d'allarme a cui dovete prestare attenzione e quali sono i metodi che vengono utilizzati solitamente dal truffatore che acquista solitamente richiede le informazioni molto gentilmente dicendovi che avrà bisogno del vostro oggetto per la sua attività nel minor tempo possibile e che ovviamente senza neanche pensarci si occuperà lui delle spese di trasporto e del trasporto eccetera 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 sulla contrattazione vi sembrerà di aver trovato il cliente perfetto perché perché contratta poco si occupa lui di tutte le spese e di tutto quello che concerne la logistica del vostro oggetto e soprattutto vi paga con bonifico ed ora veniamo al modus operandi perché dovete sapere che le sue azioni non sono per nulla casuali il truffatore deve cercare di mettervi a vostro agio prendendo sempre più fiducia durante ogni scambio telefonico o email che avete con lui perché non dubitereste mai di lui in sostanza perché è in grado di fornirvi dati per verificare la sua persona dati che spesso noi che siamo i venditori non andiamo mai controllare perché semplicemente a parare mio non ne abbiamo voglia secondo motivo state molto tranquilli perché lui continuerà a dirvi sì ti pago tramite bonifico come desideri e è qui in questo preciso momento che la situazione svolta a suo favore svolta perché inizierete a darvi del tu e inconsciamente inizierai a considerare una brava persona tradotto in modo semplice inizierai a fidarti di lui facendo così suo gioco ovviamente spesso queste persone si considerano esperti nel settore ma non entrano mai nel merito se ci fate caso vi dicono che sono tizio e caio vi dicono che hanno l'attività tal dei tali voi siete convinti che questo abbia un'attività e che faccia realmente quello però non entra mai nella specifica più di un tanto dell'oggetto altro indizio a cui dovete prestare attenzione è che spesso queste persone chiamano preferiscono chiamare perché chiamano e non scrivono email chiamano perché vogliono sentire chi hanno dall'altra parte della cornetta per capire in che modo prendervi per capire come e in che campo prestare più attenzione per poi avere fiducia da parte vostra questo è un discorso molto semplice cercano di capire la vostra persona e di come voi vi comportate a questo punto arrivati a questo punto voi siete belli carichi siete belli convinti che la vostra vendita andrà a buon fine e tra virgolette perdete di vista qual è l'obiettivo primario della situazione ovvero prendere i soldi avere poi sul proprio conto i soldi scaturiti dalla vendita dell'oggetto ovviamente e qua faccio una piccola regressione solitamente almeno per quanto mi riguarda ma anche penso per quanto riguardi voi il processo mentale che ci imponiamo durante una vendita è metto l'oggetto in vendita e essendomi l'oggetto le persone che acquistano il mio oggetto devono stare alle mie condizioni che sono il prezzo prima condizione che impongo seconda condizione che impongo è il pagamento terza condizione che impongo se vi è il pagamento la spedizione benissimo questi sono possiamo dire tre capisaldi per vendere un oggetto è qui che vedo molta gente che scrive che commenta dice ah sono degli imbecilli a come può essere che le persone vengano truffate così io penso semplicemente che le persone per l'ottanta per cento le persone che vengono truffate per l'ottanta per cento non siano persone stupide sono persone che non conoscono il tipo di meccanismo che vi sta dietro questa situazione e quindi sono gli utenti più raggirabili dai truffatori è questo il vero motivo alla fine per cui capitano determinati tipi di truffe detto ciò noi abbiamo questi presupposti presupposti che data dall'abilità del truffatore vengono stravolti anche se noi non ce ne accorgiamo e vengono stravolti perché essenzialmente perché noi siamo stati caricati come dico io a molla dal truffatore iniziamo a fidarci di lui e vogliamo chiudere l'affare e abbiamo trovato una persona che nella maggior parte dei casi e ditemi se non è vero appena io ho messo il mio oggetto in vendita mi ha contattato quindi già per quello ci sentiamo dei venditori provetti in realtà quello che ne sta dietro è ben diverso a questo punto della storia interviene un fattore importantissimo direi un fattore essenziale ad alimentare la vostra sete tra virgolette la vostra fame di concludere l'affare il tempo a questo punto della storia il truffatore inizierà a non avere più tempo vi spiego meglio il truffatore vi ha abbindolato ha preso fiducia nei vostri confronti vi siete accordati sul pagamento però inizia tra virgolette a chiedervi altre cose facendo distogliere la vostra mente da quello che è l'obiettivo come avevamo definito prima primario ovvero prendere i soldi a questo punto il truffatore una volta raggiunto tutti questi obiettivi cosa inizia fare inizia a stringere il tempo perché lui avrà bisogno dell'oggetto nel più breve tempo possibile vi dirà che ne avrà bisogno per la sua attività entro un paio di giorni e che quindi voi dovrete spedire l'oggetto o il giorno stesso o massimo vi manderà il corriere lui il giorno dopo e qui tra virgolette è l'ultima chance che avete per non fare la cazzata ecco diciamo così perché qui voi dovrete essere molto fermi il tutto contornato logicamente da varie chiamate perché varie chiamate perché lui vi deve mettere pressione lui non vi deve far pensare al momento lui deve farvi pensare che l'unico vostro problema al momento è impacchettare l'oggetto e spedirglielo e voi tra virgolette vi sentite messi sotto pressione e avete paura che l'affare possa saltare da un momento all'altro perché voi siete stati lenti nel spedirgli l'oggetto o non fare le cose nel più breve tempo possibile ed è qua la sua maestria ovviamente perché voi non ragionate in quel momento voi pensate solo spedisco e poi i soldi dimenticando dimenticando il fatto che lui vi ha parlato di soldi all'inizio ma poi ha distolto la vostra mente da quello che è l'argomento soldi e l'unico problema al momento è concludere l'affare e spedire una volta impacchettato il pacco e quindi voi siete pronti per spedire il vostro oggetto logicamente domanderete a lui ma il pagamento cioè come come vi paghi avevamo detto bonifico e qui le carte in tavola possono cambiare perché ormai lui ha preso fiducia quindi lui può traslarvi in qualsiasi tipo di situazione prendiamo un caso medio solitamente come ho già spiegato in un altro video vi proporrà o una ricarica poste pay o un pagamento con paypal oppure il classico bonifico istantaneo dove siete voi a mandare i soldi a lui ci sono vari tipi ecco contate sempre che lui non vuole il vostro oggetto lui vuole fregarvi dei soldi non vuole assolutamente il vostro oggetto e quindi per il 99 per cento dei casi vi chiederà questo nuovo tipo di truffa che viene fatta tramite lo sportello del bancomat e sarete voi a caricare dei soldi a lui e poi del vostro oggetto non gliene fare niente se proprio volesse fregarvi l'oggetto cosa molto difficile al giorno d'oggi perché più difficile appunto come truffa potrebbe farlo però non è quello a cui punta diciamo così prendiamo il caso il caso che sta avvenendo di più in questo ultimo periodo il caso che sta scoppiando su tutte le varie piattaforme online che è questo qua del bonifico istantaneo qua dovete ritornare in voi stessi tra virgolette e dovete dirgli no queste sono le mie condizioni io ti ho detto che tu mi paghi col bonifico quando vedi i soldi io ti spedisco l'oggetto non ci sono i soldi non spedisco oppure faccio una spedizione in contrassegno che può essere un altro tipo di pagamento quindi tu dai soldi al corriere caro il mio truffatore e poi ti viene dato il pacco a questo punto potrebbero succedere due tipi di reazioni prima reazione del nostro truffatore quale può essere prima reazione no ma tu mi avevi detto così ma cosa ma cosa e quindi riprova a giocare sulla vostra fiducia fiducia che se proprio voi vi abbia indolato in modo eccellente potrete cedere avete paura magari di non chiudere l'affare perché lui vi sta minacciando tra virgolette che o è così o non chiudiamo l'affare magari avete bisogno di soldi magari siete in determinati condizioni economiche e quindi cederete e rifarete il suo gioco seconda opzione vi dirà ah ok va bene non sono io che tratto dei pagamenti è mio fratello che emanna tutti i pagamenti dell'azienda per cui sento lui e domani la chiamo in serata la chiamo per poi sparire e qua vi sarete salvati questo è il tipo di situazione e di modus operandi che capita più frequentemente comunque questo tipo di situazione volevo dirvi vi sono delle avvisaglie vi è un qualcosa a cui vi può rimandare che quel tipo di comportamento sia un comportamento truffaldino sta a voi reggergli il gioco per poi tra virgolette smascherarlo o per comunque concludere la situazione se non reggete il gioco se non avete capito completamente la situazione potrebbe essere un problema potrete incappare in una truffa magari avete degli affari in ballo state vedendo delle cose in questo periodo su subito su ebay su quello che può essere vi fate delle domande e qua potrebbero esserci delle risposte tutto qui poi sta a voi sempre a giudicare la situazione e sta a voi capire se l'affare secondo voi può essere buono o meno date anche magari questo tipo di avvertimenti io ragazzi vi saluto la prima parte del video finisce qua nel prossimo video andremo ad analizzare il secondo tipo di truffatore perché ormai li abbiamo divisi in categorie andatevi a vedere i precedenti video che parlano sempre di truffe perché li considero sempre molto informativi ci vediamo nel prossimo video non dimenticate di iscrivervi al canale ciao ragazzi